Consigliere, questa iniziativa che obiettivi persegue? Obiettivi che sono perfettamente nel senso di AICRE Lombardia. AICRE è l'associazione italiana dei comuni delle regioni d'Europa e ha come missione quella di costruire l'Europa dal basso, mettendo insieme le comunità locali, mettendo insieme i comuni ed è esattamente quello che questa iniziativa intende fare attraverso una rete di comuni di vari paesi europei che hanno delle peculiarità alimentari, hanno dei piatti tipici da presentare che verranno portati di comune in comune proprio a unificare le tradizioni culinarie di questi comuni e quindi a costruire una rete che poi anche da un punto di vista commerciale potrà avere un suo riflesso. Dunque è proprio quello che AICRE vuole fare, mettere insieme popoli, comunità, comuni e costruire un senso di Europa che è necessario per avere un'Europa più forte.